buongiorno a tutti spero che mi sentiate vi faccio vedere purtroppo come ci tocca andare in giro meno male che la spesa l'ho fatta adesso per dieci giorni questa non mi servirà più perché me ne sarà bello felice contento come una pasqua nella mia casuccia anche perché siamo a pasqua e quindi purtroppo volevo scusarmi per il video che è uscito dopo due giorni ma anche giga del telefono si sono covidizzati come si suol dire e praticamente il video che ho fatto martedì pomeriggio alle 14 e praticamente si è caricato visto che era un video di 16 minuti di solito si carica in 7 8 ore ci ha messo praticamente quasi un giorno e mezzo quindi non è che ero sparito che cosa purtroppo si è caricato molto lentamente alla fine disperato anziché usare giga del telefono che si erano rincoglioniti ho usato la dsl di casa e piano piano si è caricato però francamente non è mai successo una roba del genere non riesco a capire come mai però va bene detto questo guardate uno come è costretto ad andare in giro 50 anni che una roba del genere mai successo adesso addirittura sentivo l'oppositore folle che diceva che ci vogliono fare i tamponi casa per casa e già mi viene da ridere perché di dieci persone che vanno a che sono serie che della della croce rossa di chi per esse di dieci una sarà della croce rossa ma dove saranno furbastri che provano a entrare nelle case degli anziani per furtare un po di roba quindi mostraremo a vedere cosa vogliono fare la cosa importante lo continuano a dire state a casa so che è una è un sacrificio molti non lo sopportano molti dicono dove ne fotte un cazzo però il problema non è tanto loro perché magari io potrei anche averlo il covi però sto benissimo quindi non mi fa né caldo né freddo però c'è gente che magari andando in giro non lo trasmette agli altri lui sta bene non lo sa di averlo non gli fa niente perché per lui è bertolaccia per dire una volta si diceva teghe la bertulassa in milanese quindi vuol dire fa il malato fa il malato ma non c'è niente e lo facevano i ragazzini quando volevano andare non volevano andare a scuola no che si inventavano il termometro sul calorifero c'ha 39 e mezzo di febbre e poi ma ma sei freddo come mai e quindi io sento che poi il 14 vogliono andare tutti a protestare ho fatto il video su ho dimenticato qualche più però c'è diventava troppo lungo e per me la cosa ve l'ho già detto la cosa dei prestiti a me scappa da ridere cioè io sentivo una persona che ha un amico in germania che è un'azienda ha fatto richiesta gli hanno dato 100 mila euro così tac come niente fosse purtroppo se lo fanno in italia lo chiedono cani e porci cioè anche a chi non serve anche chi magari vuol fare la furbata si fa dare 100 mila euro poi chiude l'azienda o la vende e in tasca 100 mila euro belli omaggio e quindi siamo sempre lì se non ci fossero sempre i furbetti perché è così anche il reddito di cittadinanza di due per tre senti qualcuno che richiede il reddito di cittadinanza però lavoro e allora non va mica bene perché poi dopo vai a discapito di chi invece poverino ha perso il lavoro che effettivamente deve mantenere la famiglia quindi quei 780 euro si spera due o tre mesi finché non viene trovato un altro non fa già fatto un discorso anche sul reddito di cittadinanza che se uno era abituato ad avere 2.000 euro di stipendio non gli puoi dare 780 euro perché non gli bastano perché comunque se tu hai famiglia figli eccetera hanno fatto un calcolo avevo fatto una domanda non so se ha davanti un altro alla ghigliottina eccetera quanto serviva una famiglia di due persone con un figlio al mese 3.000 3.000 euro e mi sembravano eccessivi però veniva fuori più o meno 3.000 euro al mese quindi 780 euro se una una famiglia con un figlio con un figlio con un figlio e un figlio e lavora solo uno che a casa 780 euro non gli bastano io vi saluto con la mascherina oggi ho voluto farla così visto che sono andato a comprarla 4 euro ne ho prese due lavabile quindi è lavabile a 40 gradi tranquillamente dovrebbe durare per la pandemia un paio di mascherine dovrebbero durare spero che non andiamo avanti non andremo avanti fino a capodanno perché sennò veramente mi sa che la gente fa la rivoluzione sul serio io spero che per maggio si possa ricominciare a vivere non a sopravviare a vivere perché per ora stiamo sopravvivendo io fortunatamente la solitudine ci sono abituato da tre da quando è morta mia mamma a vivere da solo quindi non mi pesa più di tanto lavorare lavoro da casa fortunatamente tra virgolette però capisco che per molta gente che era abituata a uscire tutte le sere è dura è molto dura però resistiamo e speriamo in bene detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio come al solito c'ho la lucetta che mi sa che quella quella bella luce lì di quelle nuove no quelle a risparmio energetico mi cura c'è dentro il microchip che mi cura osserva cosa dico cosa faccio eccetera eccetera perché continuo a fare puff 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 va beh detto questo vi saluto vi ringrazio i prossimi video li faccio senza mascherina naturalmente ciao